Salve a tutti, sono il professor Francesco Samani e niente, desidero fare questo video relativo alle derivate perché uno studente molto simpatico me lo ha chiesto Allora, essenzialmente le derivate Allora, salto, faccio una premessa Adesso dov'è scontato che voi studenti sappiate già che cos'è una derivata, che cos'è il rapporto incrementale che cos'è un limite, eccetera, eccetera Vado più alla parte applicativa, esercitativa che vi consente di capire come risolvere gli esercizi Questa è la parte che di solito vi interessa di più almeno per le prove iscritte Quindi diciamo così Facciamo oggi una lezione rapida di prova relativa alle derivate fondamentali Allora, queste derivate fondamentali che poi, col passare del tempo, non saranno più fondamentali ma saranno di vario tipo ossia saranno derivate e teoremite sulle derivate ok? serviranno a risolvere gli esercizi dai più semplici ai più complessi ma in realtà poi facile e difficile è tutto relativo Allora, essenzialmente chiameremo la funzione y e questa funzione potrà avere diversi valori se la funzione y sarà pari a una costante la sua derivata e per derivata la chiameremo y' mettiamoci pure una freccettina sarà pari a 0 se la mia funzione invece sarà proprio x la mia derivata prima sarà 1 se unisco entrambe le conoscenze ok? cioè la derivata di x si annulla x e rimane 1 che è proprio il coefficiente tra parentesi che fa parte della x ok? quindi se io avrò y uguale kx inevitabilmente la derivata di kx sarà proprio la costante benissimo adesso voglio dirvi una derivata molto importante molto utilizzata se io ho un esponenziale cioè x elevato all'ennesima n è un numero naturale anzi andiamo andiamo oltre potrà essere qualsiasi numero poi vi spiegherò come risolvere gli esponenti più complessi la derivata prima è uguale a nx elevato alla n-1 voglio fare una premessa che è importante sono in diretta quindi non taglierò nessuna parte del video se metterò qualche errore non potrò tornare indietro questo è anche il bello della diretta e ho deciso insomma di dare questo taglio a questa risorsa che metterò poi online subito dopo aver finito questa breve lezione chiamiamola ho detto introduzione è una lezione introduttiva relativa alle derivate fondamentali a questo punto diciamo qualcosa in più se abbiamo y uguale 1 su x probabilmente quasi tutti i professori vi avranno detto imparatevelo a memoria che la derivata prima sarà meno quindi l'opposto di 1 fratto x quadro ma io preferisco darvi un secondo metodo ok che richiede un po' più di applicazione però essenzialmente non dovete imparare a memoria tutte le regole ma basta ragionare un po' ossia se la mia funzione y è 1 su x e io so che 1 su x è pari a x alla meno 1 perché perché x qui è elevato alla prima se io cambio il segno dell'esponente io posso fare il reciproco quindi è vero che 1 su x è x alla meno 1 come x alla meno 1 è 1 su x bene ma se allora io adesso voglio unire questa regola e voglio applicarla a questa quindi voglio unire le due regole se n è meno 1 avrò meno 1 x elevato all'n meno 1 quindi meno 1 meno 1 quindi meno x elevato alla meno 2 ma abbiamo appena detto che se l'esponente è negativo per togliere il segno meno basta fare il reciproco quindi meno 1 su x quadro e vedete com'è divertente com'è interessante che abbiamo ottenuto esattamente lo stesso risultato però ce lo siamo trovati da soli quindi se avrò 1 su x alla seconda se avrò 1 su x alla terza se avrò 1 su x alla quinta eccetera eccetera essenzialmente basterà applicare questa formula che vi ho appena dato ok vado avanti alla stessa maniera y è uguale a radice di x anche qui abbiamo due modi la memoria che c'è per un attimo uno lo capisce poi se lo dimentica e poi ce lo ricaveremo quindi y primo è 1 su 2 radical x quindi radice quadrata di x in realtà se ricordate qualche teorema relativo agli esponenti fare la radice di x non significa nient'altro che elevare allo mezzo x ecco vi ho spiegato che faremo pure derivate dove n non sarà più un numero naturale e qua già abbiamo un numero fratto abbiamo ovviamente un mezzo e 0,5 applichiamo ovviamente ci sono formule più importanti questa è la seconda volta che inserisco la freccia riapplichiamo questa formula quindi n che è un mezzo un mezzo x allo un mezzo meno uno ma un mezzo meno uno è meno un mezzo quindi un mezzo x scusate voglio subito portare la x al denominatore perché questo meno un mezzo lo voglio far diventare più un mezzo l'ho detto prima se cambio il segno la mia x va al denominatore x elevato allo un mezzo a questo punto abbiamo detto che se elevato a un mezzo è proprio la radice di x l'ho detto prima che radice di x è x elevato a un mezzo quindi x elevato a un mezzo è la radice di x quindi in definitiva ottengo uno fratto due e x allo un mezzo è radice di x come vedete anche qui ci siamo trovati lo stesso identico risultato qua dovete solo impararvelo a memoria qua ve lo ricavate qual è il vantaggio che io posso avere radice quadrata radice terza radice quarta radice quinta seguendo questa strada io posso posso diciamo trovare qualsiasi soluzione per più tempo quindi in linea di massima vi aggiungo questa regoletta che se io avrò radice questa volta ennesima di x la sua derivata prima sarà essenzialmente uno fratto n che è l'indice della radice per la radice ennesima di x elevato alla n meno uno questa è la regola generale per risolvere tutti gli esercizi con radici ok a questo punto voglio fare un breve esercizio per finora vi ho detto solo le derivate semplici adesso vi dirò qualcosa sulle derivate composte cioè le derivate composte saranno la somma la differenza la sottrazione quindi la sottrazione il prodotto di più derivate oppure la derivata di una funzione di funzione eccetera eccetera proviamo a inventarci una derivata composta diciamo relativamente semplice dove ci possiamo inserire queste formule che vi ho appena spiegato allora se y sarà 3 più ad esempio 1 su x più 2x più radice quadrata di x ok semplicemente voi dovete dovrete e dovete ricordarvi che una cosa molto semplice a parole ma ancora più semplice nei fatti che la derivata di una funzione composta in cui c'è una somma di funzioni è pari alla somma delle derivate quindi semplicemente per risolvere questo esercizio io dovrò fare la derivata di questa costante la derivata di questa funzione la derivata di questa funzione la derivata di questa radice eccetera eccetera qui ci potrebbe essere tutto mettiamoci aggiungiamoci dai x alla quinta ok la derivata di una costante l'abbiamo detto poc'anzi la derivata di una costante è sempre 0 0 è l'invariante dell'addizione cioè a qualsiasi numero a qualsiasi numero sommo 0 il numero rimane equivalente ok quindi potrei anche non metterlo però per completezza per diciamo ve lo scrivo x 1 su x è come se fosse x alla meno 1 ok in questo caso scusate che ho già messo il più cancello in questo caso ve l'ho spiegato prima la derivata di 1 su x è proprio meno 1 su x quadro più la derivata di 2x x se ne va e rimane 2 più la derivata di radice di x l'abbiamo detto prima 1 su 2 radice di x più abbiamo detto puntini puntini questa derivata potrebbe essere complessa quanto ci dobbiamo diciamo utilizzare quella formula davvero importante importante perché si usa spesso quindi n che è 5 x elevato alla n meno 1 5 meno 1 è 4 quindi la soluzione è questa ragazzi con questo è tutto io vi ricordo che sto inserendo questo materiale a supporto insomma della vostra preparazione sono certo che se troverete utile il canale potrete per contribuire a migliorare questo video ma anche i futuri video potrete aggiungere dei commenti potrete chiedermi delle delucidazioni potrete chiedermi qualcos'altro io ho cercato di spiegare tutto in maniera lenta e in maniera molto semplice e semplicistica affinché insomma questa introduzione alla risoluzione di derivate più o meno complesse sia una introduzione ben accetta con questo io vi ringrazio vi ricordo di iscrivervi al canale di mettere mi piace di condividere di passare parola e vi auguro una buona giornata ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti